buongiorno amici e bentrovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee oggi vi voglio presentare questa speciale fioritura del dendrobium lina wianum questa era un'unica pianta un'unica pianta che poi cresciuta e cresciuta e cresciuta e le radici sono diventate gigantissime aveva riempito avevano riempito il vaso una pianta che era cresciuta tantissima nonostante che quando l'ho presa hanno detto attenzione perché questa ha delle radici finissime delle radici particolarmente fine facile marciume ma in effetti è cresciuta molto 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 fino a che poi veramente l'ha fatto una quantità di radici pazzesche e poi inevitabilmente basta che uno sbaglia un attimo la bagnatura e queste radici un po per il basso un po per per il substrato piano piano se ne sono andate che è successo ho dovuto dividere questa pianta perché al centro quando fa quel pane di radici che diventa gigantissimo pienissimo fittissimo e praticamente la pianta è marcita l'ho divisa in tre parti adesso mentre sto girando il video sto vedendo che c'è un ospite indesiderato su questa foglia la riconoscete chi è chi non è nella cucinia cotonosa e poi la tratteremo come di dovere con l'olio minerale eccola qua è proprio lei buongiorno buongiorno ben trovata tra poco andrei via va bene le sorprese diciamo che questa pianta dall'anno scorso ha cominciato a manifestare un po di cucinia cotonosa trattata con l'olio bianco va bene ogni tanto ritorna su qualche piccola foglia però sto vincendo io la battaglia dendrobium linauianum spettacolare che pare che ha un cuore dentro questa pianta nonostante che le radici diciamo sono marcite tanto la realtà dei fatti è quella è inutile che uno magari dice che è tutto sempre magico nonostante che l'ho divisa la pianta ecco ha fatto la fioritura come sua consuetudine è bellissima come fioritura io il video di oggi vi voglio far vedere innanzitutto questa spettacolarità del fiore che è pressoché unico così bello sembra che ha un cuore dentro è bellissimo è l'orchidea dendrobium degli innamorati guardate quando è bella qua e a parte la cocciniglia cotonosa a parte la difficoltà delle radici la pianta sta andando bene mi ha solo messa nel vaso di terracotta con lo sfagno e poi ribristineremo piano piano le radici non ci sono problemi quello che vi volevo evidenziare nel video di oggi è la congimazione ora questa pianta bober via delle radici è un po per via del fatto che quando preparo l'acqua è l'acqua quella congime con la fibra di cocco quindi non ha avuto il vendi 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 che voi conoscete ho avuto una congimazione tipo acqua fresca perché preparavo l'acqua per la fibra di cocco per i fragrini per i papiopedilum e questa ha preso la stessa acqua cioè non è che mi metto a preparare per ogni tipo di pianta un congime a sé ho preparato diciamo quello che era valido per uno l'ho distribuito un po per tutti di solito preparo preparo l'acqua con la congimazione in questo caso era la fibra di cocco se ho dato qualche giorno ho dato in alternativa quello organico che ho fatto già un video che sarebbe il 6 4 6 quindi a basso titolo di azoto e potassio questo per dire che tante volte uno non non è pompando pompando con con i congimi che si ottengono le fioriture le fioriture possono venire fuori solo per stress le fioriture possono e fuori perché magari un anno la pianta non ha fiorito e poi ci regala il bello al secondo anno quindi diciamo che fanno un po come vogliono ma è giusto che sia così quindi noi interveniamo ma interveniamo sempre molto relativamente se riesco a farvi vedere lo spettacolo dei fiori andiamo qua eccolo qua belli 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 questo cuore dentro è meraviglioso ancora deve finire la fioritura io ho fatto il video che poi se no passano i giorni non sarà mai per quando fiorisce tutto volarsi che passa anche un'altra settimana meravigliosa come pianta sono venute fuori tre il vaso di terracotta mi aiuta a gestire un po la bagnatura e la cocciniglia come dicevo prima è un po di tempo che ce la portiamo dietro guardate tanto che siamo in diretta non abbiamo nulla da nascondere quella è una foglia gialla questo è il prodotto che utilizzo qualcuno di voi mi aveva chiesto che cosa dai di prodotto per la cocciniglia è l'insetticida anti cocciniglia della cifo uso questo e mi trovo bene diciamo che me l'ho quasi finita perché un po qua un po la ogni tanto appare ogni tanto scappa fuori sta cuciniglia adesso girando il video avete stata l'occasione grazie a voi di andare a scovare questa situazione ma è semplice ma se lo date sul fiore il fiore probabilmente non gradirà però io devo salvare ecco qua finita la storia spruzzato sulla foglia questo prodotto è olio bianco olio minerale e formulazione liquida pronta per le piante ornamentali d'appartamento la terrazzo e uso domestico aggiungiamo per le orchidee perché lo sto utilizzando praticamente uno dovrebbe utilizzarlo a distanza di otto giorni cioè dato oggi e poi si ridà si ridarà tra otto giorni proprio per aiutare anche in modo tale che possono andar via anche le uova che possono aver fatto tanto poi toglierò quella foglia perché gialla e qui ne abbiamo fatto tutto oggi abbiamo visto la fioritura abbiamo visto questa pianta con difficoltà di radici che è stata messa in questo contesto foglia secche questa andiamo a toglierla dato siamo qui ecco tutte le stiacce eccola qui qui c'è c'è lei questa è riconoscibilissima perché tanto è sempre lei ma io la ridò un altro pochino se c'è qualche segno di cuciniglia dobbiamo dedicare del tempo nel video di oggi una cosa importante a guardarle le nostre piante perché adesso me ne sono accorto facendo il video sono probabilmente quella nascosta sotto la foglia stava lì chissà quanto tempo quindi tante volte la morale del video di oggi a di là della fioritura che è spettacolare che un anno fioriscono un anno non fioriscono ci sarebbe da dedicare del tempo per osservarle perché osservando le vediamo meglio come funziona il tutto di quello che hanno bisogno e se ci stanno ecco questi animaletti che stanno ben nascosti per cercare di chiaramente loro fanno il loro lavoro e devono star nascosti per non essere visti e noi dobbiamo scorgerli per per sterminarli vabbè ha cominciato l'anno scorso evidentemente quando ha cominciato ad andare un po in sofferenza per via delle radici di solito è sempre quello il meccanismo quando la pianta tira fuori la cocciniglia cotonosa che poi non so da dove la possa aver presa sono sempre sintomi di di malessere di inizio di sindomi di malessere sono una pianta sana difficile che che possa prenderla profuma non riesco a farvelo sentire il profumo è gradevolissimo profuma di primavera un olore particolare sinceramente mai sentito eccola qua ragazzi allora innanzitutto grazie di avermi seguito grazie di avermi fatto spostare le piante per fare il video che abbiamo visto che c'era qualcuno che non doveva essere presente oggi ovvero sia la voce miglia grazie a voi l'ho trattata così se qualcuno voleva vedere il prodotto e come faccio è semplicissimo se lo fate sui fiori purtroppo il fiore è delicato è fatto già prove il fiore nel giro di poco si rovina per via delle dell'olio bianco eccoci qua ragazzi grazie di tutto grazie a voi questa volta perché mi avete aiutato a muovere le piante in maniera che di solito non faccio questa è la fioritura spettacolare è bellissima profuma se volete provare un dendrobium particolare questo è lui ecco una pianta che ha pochissime radici trovo la forza di tirar fuori tutta l'energia con congimi a basso dosaggio e quindi è questo per dire che non sempre il vendi 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 tanto se non c'è la radice dovremo essere in grado di vedere se ci sono le radici in che stato stanno sanno a pomparle a volte non serve a nulla grazie di avermi seguito grazie buona domenica la prossima settimana o al prossimo video